Dovete sapere, quegli anni al liceo scientifico Mariano IV si stava decisamente male. Non c'era un vero e proprio responsabile, semplicemente si sentiva la mancanza di qualcosa. Ma, grazie a Dio, sbucarono praticamente dal nulla due ragazzi, o meglio, due eroi. E questa è la storia di come li ho conosciuti. Come già detto, non c'era una vera e propria causa, era la situazione in sé che non sembrava voler migliorare. Chi è? Eccomi. Ah ma sei tu Potter. Vieni, vieni, siediti. Ah, permesso. Ben noi, ben noi. Ash, che sugo la stanza. Eh sì. Lo sai che non si può stare negli spazi laterali Potter, vero? Te l'ho detto. Non te l'hanno insegnata a casa? No signorina Umbridge. E adesso scrivi Potter. Te l'appuncio io la penna. Cicileu. Già ti basta, da. Allora, dai, dimmi però c'è cosa devo scrivere, che devo andarmene in cat e non ho molto tempo, dai, sbrighiamoci. Sicuramente sei anche uno di quelli che si appoggia ai parapetti, vero Potter? Eh, stavo svisando pivelline. No Potter, non si fa. Allora, dai, vediamo un po' di sbrigarci. Non devo andare negli spazi laterali. Non devo andare... Cosa... Cosa è quello? No. No, il tatuaggio no. No, bozzi di gaggio con il tatuaggio nella mano, no. Spesami il tatuaggio dalla mano, sembra un gaggio no, ti prego. Non devo andare negli spazi laterali, no. Nella mano che è oscena... Ah, Potter, un'altra cosa. Mi stavo quasi per dimenticare. Che cosa? Marrano che domani entri a scuola con lo scooter acceso. No! A dire il vero non ricordo esattamente come fossero, ma sicuramente erano intelligenti. Beh, parla di etola da zucca. È sempre parla di etola da zucca. Erano atletici. Più di tutto erano fortunati. Atomico, Borussia, Real, Benfica, Anderlecht, sì. Atletico, bello, bello, bello. Puzzola? Sì, disse Puzzola. In realtà però, dicevano sempre che la loro vera forza eravate voi. Votate lista due. Anche io. Ma che lista vuoi tu? Lista due. Siamo pronti? Votate lista due. Consiglio da signore. Forza. Ragazzi, chi votate? Lista due. Sì. Oh, votate lista due. Ragazzi, ma a Gabilandia che cosa votate? Lista due. Ragazzi, chi votate? Vota lista due. Vota lista due. Ragazzi, chi votate? Vota lista due. Ragazzi, chi votate? Vota lista due. Vota lista due. E la c'è. Ragazzi, chi votate? Lista due. Ragazzi chi votate? Lista 2 Votate lista 2 Votate lista 2 perché 2 è meglio di 1 Ragazzi chi votate? Lista 2 Votate lista 2 Oh raga ma che cazzo di lista votate? Lista 2 E votate lista 2 Perché se votate lista 2 Il possibile si mischia l'impossibile Per diventare il possibibile Votate lista 2 Appena usciti dalla scuola Ciao che lista voti? Siamo appena usciti da scuola Scusa che lista voti? Lista 2 Lista 2 Anche noi votiamo lista 2 Ecco Mermellino vota lista 2 Ehi belli ma voi che lista votate? Lista 2 Lista 2 schere Ragazzi Ragazzi chi votate? Lista 2 Vota lista 2 Ragazzi che lista votate? Lista 2 Tutti arretti con Tonino e Maurenti Vota lista 2 Tutti arretti con Tonino e Maurenti vota lista 2 Su di compagno del direttivo Bitch Tutte le donne lo cercano Tutte le donne lo vogliono Votate Tonino Vota lista 2 Gang Rincani Che lista voti? Lista 2 Lista 2 Julio ma... Che cosa ti è successo? Volevo votare lista 3 Nooo Dovevi votare lista 2 Ciao Angela Che lista voti? Ah che lista voto Ma la numero 2 Naturalmente ragazzi La vostra Che lista voti?